Allora, buon pomeriggio ragazzi, video che non era in programma sinceramente e cercherò di essere anche breve perché in realtà non è che abbia molto da dire seppur è un argomento che non ho mai toccato in particolare l'ho accennato qualche volta ma non ne ho mai parlato nel dettaglio però voglio essere comunque breve, un video che almeno spero non sarà lunghissimo e niente, ieri sera mi aggancio per quello che voglio dire siccome il Lille sarà la prossima avversaria della Juventus e come ho detto l'altra sera facciamo tappa a Lourdes prima di andare a Lille allora ho detto vabbè, ieri sera giocavo con l'Atletico ho detto vabbè, muovedo un attimino come gioca sto Lille ho visto dall'uno a uno in poi, quindi non è che abbia visto primo tempo, secondo tempo allora ho visto qualche highlights giusto adesso primo tempo proprio infilati come il coltello nel burro proprio in Lille cioè lasciamo perdere Sorlot poi tre occasioni del primo e una nel secondo tempo si è mangiato quattro gol uno peggio dell'altro cioè manco Vlaovic se magna certi gol così ovviamente sto facendo un po' un'altra mia mezza provocazione però c'è un attaccante del genere un attaccante da grande squadra europea Sorlot se non mi ricordo male viene da dal Villareal mi pare adesso non mi ricordo benissimo ma mi pare dal Villareal comunque uno che ha fatto questo salso è una grande squadra però so quattro gol il primo veramente scandaloso non si è capito manco come ha fatto a nonpia la porta poi uno ci ha provato col pallonetto poi due occasioni davanti al portiere come ha fatto Lea non fa gol in qualsiasi modo cioè poi tutte e quattro sbagliate clamorosamente quindi se l'Atletico almeno 2-0 avesse chiuso il primo tempo non c'era niente a dire anche perché ripeto il Villareal veniva infilato veramente come come il coltello nel burro lasciavano molti spazi quindi una squadra aperta dove se tu giochi in verticale probabilmente qualcosa riesci a combinare io spero che Tiago Motta la prepari meglio rispetto a come l'ha preparata con lo Stoccarda e niente poi ho visto l'1-1 molto bello molto bello il gol di sinistro a giro e l'1-1 voglio parlare molto dell'episodio del 2-1 e lo faccio dopo aver parlato del terzo gol che è stato anche abbastanza fortunoso l'ho visto in diretta una serie di insomma un rimpallo poi che ha favorito Jonathan David che ha realizzato anche il calcio di rigore del 2-1 una deviazione che ha inganna O'Black per il 3-1 finale dei francesi che battono tutte e due le squadre di Madrid perché ha battuto 1-0 il Real e così batte 3-1 anche l'Atletico quindi le due squadre di Madrid battute da Lille e quindi una domanda me la so fatta dico ma cazzarola vedo che sta 1-1 con Lille vedo che comunque ha battuto anche la scusate il Real Madrid ha battuto 1-0 dico ma voglio vedere un attimo come gioca il Lille sinceramente a me non mi è sembrato tutto questo granché comunque giocano a calcio giocano comunque un calcio buono insomma voglio dire non è niente ad eccezionale però manco a di non sanno che devono fare con la palla comunque hanno un loro modo di giocare che non è calcio champagne però non è neanche malissimo ecco questo voglio dire e speriamo che Tiago Motta la prepari molto bene ma quello di cui voglio parlare in questo video non è tanto questo cioè poi magari lo approfondiremo in in un altro video se ne avrò il tempo ah anzi dico un'altra cosa già che ci sono mi raccomando a destra contro il Lille facciamo giocare a Savona che gol del 3-1 nasce su un 1-1 contro il terzino lì è stato un rimpallo fortunoso ma diciamo lì un terzino se ci metti cambiaso non so se è quell'1 contro 1 lo vince il giocatore del Lille quindi mi raccomando mettiamo gli uomini giusti non facciamo cazzate non facciamo esperimenti non facciamo niente di che perché quella è una partita che tu devi andare a vincere tra due settimane quindi stop e mi fermo qui quello di cui voglio parlare è l'arbitraggio di Marco Guida perché ieri sera è stato molto contestato lui ma anche il VAR perché l'arbitro ok l'arbitro di campo può sbagliare è sempre successo anche in maniera molto più clamorosa di ieri questo onestamente va detto io mi sorprendo molto del VAR al VAR mi pare c'era Pairetto con un arbitro portoghese mi pare di aver capito mentre stavano facendo i colloquio hanno detto c'è Pairetto con portoghese sinceramente non mi ricordo neanche il nome ma vabbè e lì dopo un adesso non mi ricordo se è un calcio d'angolo un calcio di punizione mi pare calcio d'angolo tutti noi avevamo capito che Guida avesse visto una mano pure la telecronaca diceva ma ha visto un tocco di mano adesso sta a colloquio col VAR tutti dicevano guarda non l'ho toccata con la mano non l'ho toccata con la mano quelli dell'atletico si evince che il tocco di mano era prima di un giocatore dell'IL anzi quello dell'atletico proprio manco minimamente la sfiora di mano e già qui tutti si sono scatenati dice ma che rigore hai dato io pure inizialmente ho detto ma questo pure che rigore ha dato cioè io veramente mi sorprendo di che rigore ha dato cioè non esiste cioè non c'è il tocco di mano e se c'è il tocco di mano del giocatore dell'IL con tutto il VAR con tutto l'ausilio della tecnologia sei riuscito a dare un calcio di rigore inesistente ok poi ho rivisto l'azione un paio di volte due tre volte anche a rallentatore due tre volte normali e due tre a rallentatore e mi sono accorto che effettivamente Guida non ha fischiato il fallo di mano ha fischiato un contattino che c'è stato mi pare tra Jimenez o non mi ricordo chi fosse e il giocatore dell'IL che subito dietro lui il giocatore dell'Atletico salta per prenderla di testa nel mentre c'è il tocco di mano del giocatore dell'IL e poi c'è il giocatore che cade a terra c'è questo giocatore che cade a terra dopodiché Guida fischia il calcio di rigore allora lì è un rigore scandaloso dato comunque perché prima c'è il tocco di mano del giocatore dell'IL e poi questo giocatore dell'IL l'altro giocatore dell'IL cade cade ma nessuno lo tocca cioè lui sembra quasi come impigliarsi nella gamba del difensore dell'Atletico adesso non mi ricordo neanche chi è perdere quasi l'equilibrio e cascare non è stato un fallo da punire con il calcio di rigore quello è un fallo che a centrocampo non danno mai in Europa e in Italia figuriamoci in area di rigore lì sono andati a dare un fallo che innanzitutto c'era il fallo di mano prima del calciatore dell'IL e poi un fallo inesistente una caduta provocata non dal giocatore dell'Atletico Madrid e lì è doppiamente rigore clamoroso dato all'IL per poi ecco avere anche poi incrementato il vantaggio sul 3 a 1 e vincere questa gara allora quello che voglio dire io è ripeto non è tanto l'errore di guida perché sul campo ci sta con tutto il VAR che però non l'ha richiamato al Monitor il VAR è riuscito a fare disastro anche a Madrid al Vanda Metropolitano che ad oggi non si chiama più Vanda Metropolitano si chiama in un altro modo non mi ricordo come però con tutta la tecnologia siamo riusciti a sbagliare anche qui arbitri italiani che fanno figuracce in giro per l'Europa in ambito internazionale cioè veramente è una cosa assurda assurda e quello che io voglio dire vado direttamente al punto per non essere troppo lungo che vedete questa è la dimostrazione plateale di quello che ho sempre accennato io il fatto che non ci so complotti io ho sempre detto non c'è il monopolio vabbè quelli che s'azzardano a dire il monopolio della Juve la Juve ruba la Juve ruba si riempiono la bocca dei ciabatte come anche è stato contro la Lazio l'altro giorno noi no tanti tifosi la Juve che dicono la marotta league è il complotto perché l'Inter è favorita dal palazzo è perché l'Inter è forte ok è forte l'anno scorso ha avuto tanti episodi dubbi ma non perché ci fosse un complotto ma proprio perché è la classe arbitrale italiana che fa acqua da tutte le parti cioè è proprio la classe arbitrale che non è non è preparata questo è il problema è un problema generale italiano poi andiamo con gli albi internazionali in giro per l'Europa e facciamo ste figuracce perché tutti in giro per l'Europa anche i giornali internazionali hanno parlato della insomma di quello che c'è stato specialmente spagnoli di quello che è stato sostanzialmente un furto calcistico all'Atletico Madrid perché quella partita se tu non dai il rigore può essere che finisce 1-1 può essere che poi il vince uguale tu intanto non lo dai quel calcio di rigore perché non esiste per due motivi che ho detto prima è proprio la classe arbitrale italiana che non è più in grado come era anni fa di gestire certe situazioni una volta veramente manco se te randellavano ti davano il calcio di rigore ma adesso appena te toccano con tutto l'ausilio del VAR riescono a dare un rigore ripeto inesistente quindi nel caso Marco Guida quello che dico io che siccome arbitrerà il derby d'Italia e io mi auguro lo faccia nel miglior modo possibile nel modo più corretto nel modo più più competente possibile di insomma dico non non mi spiego appunto di di questo cioè io dico che se dovesse favorire una squadra se dovesse favorire la Juventus diranno tutti eh adesso è tornata la Juve che ruba e invece se se favorirà l'Inter noi juventini diremo la stragrande maggioranza di noi juventini riusciremo fuori a dire la marotta league la marotta league questi sono sono insomma tutt'uno col sistema calcistico è perché anche la federazione vuole che l'Inter vinca non è questione di complotti bisogna essere oggettivi l'anno scorso l'ho detto ripeto ci sono stati tanti episodi dubbi tantissimi episodi dubbi in favore dell'Inter e anche per quello chiaramente loro hanno vinto il campionato non solo perché erano forti straforti era la cosa più forte del campionato l'Inter anche perché era stata aiutata ma non volontariamente dall'arbitraggio ma proprio perché è una questione di classe arbitrale è una questione proprio che gli arbitri in Italia la maggior parte sono scarsi ci sono pochissimi preparati stra preparati strabravi stracompetenti che sanno analizzare sanno andare a rivedere sanno ammettere anche quando hanno sbagliato sono veramente pochi se contano sulle tira della mano tra tutte le categorie quindi non è una questione di dire a noi poi c'è la sfortuna che ci mandano sempre quelli più scarsi ci mandano sempre quelli più incompetenti questo è vero e non mi sto riferendo a guida ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro io lungi da me dire una cosa del genere io sto facendo un discorso generale oggi chiaramente ieri c'era stato di mezzo guida che evidentemente se è un arbitro internazionale se lo merita assolutamente io questo non metto in dubbio e ripeto non è la colpa la colpa non è di guida la colpa è del bar in questo caso io sto parlando di un po' di guida sì ma anche un po' del bar perché con tutto l'ausilio della tecnologia non richiamarlo al monitor e assegnare comunque un calcio di rigore così dubbio io non lo so quindi tra arbitri di campo e arbitri anche di bar sono andati a dare un rigore che nel calcio non esisteva 50 anni fa ma non esisterà manco tra 50 anni perché prima c'è il tocco di mano e poi c'è lo pseudo contatto che ha portato poi al penalty realizzato dagli spagnoli ripeto quindi non è questione di la Juve ruba e l'Inter ruba e la Marotta league e la Moji league e tutto e l'Agnelli league tutto quello che vi pare è una questione proprio di classe arbitrale che tra arbitri di campo che l'errore ci sta l'errore ci sta e arbitri di bar che dovrebbero essere quelli che correggono l'arbitro sul campo siamo veramente in Italia a livello generale ripeto a livello generale io parlo a livello generale in questo momento sia dell'ultimo anno sia degli ultimi degli ultimi dei precedenti anni delle precedenti stagioni negli ultimi anni specie post covid o specie post var ecco diciamo dal 2017 18 no e poi è andato sempre peggiorando questa cosa la cassa arbitrale italiana non è più quella di una volta io mi ricordo quando ho cominciato a seguire il calcio c'erano arbitri più comunque più diciamo più tosti però erano arbitri molto competenti io mi ricordo Rizzoli mi ricordo mi ricordo tanti arbitri che comunque avevano erano proprio competenti e non c'era il VAR comunque lì si poteva anche dire vabbè sbagliato ma cioè io veramente con tutto il VAR oggi riusciamo a dare certi rigori che non esistono e ripeto non è tanto l'errore umano quanto quello del VAR sono stato troppo lungo è vero a discapito di quello che ho detto all'inizio però spero che insomma comprendiate il mio punto di vista e spero anche lo condividiate se siete d'accordo se siete d'accordo parzialmente d'accordo non siete d'accordo fatelo sapere nei commenti ditela vostra è sempre importante che chiaramente anche chi chi segue il discorso dica la propria quindi a voi i commenti se vi va e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi